Allora, siamo qui, sei zitto, siamo qui, oh sei zitto, oh sei zitto, siamo qui a Bibione, che giorno è oggi? Dammi il cellulare, dammi il cellulare, apri? Oh figlio, è le 14, c'è la mic. Va bene, comunque, non si vede un cazzo, ma sono le 4.06, e abbiamo appena deciso, Marco Michelassi, Davide Gritti, Andrea Di Renzo, Marco Cassani, come ti chiami tu? Federico Grazzi, Federico Grazzi e Alessandro Toggiovo, che facciamo una bella pasta, in bianco, no, con, con, la panna non c'è più, ma che cazzo ci mettiamo dentro? Cosa ci mettiamo dentro? I pomodorini? I pomodorini, i pomodorini. Non me lo scoprì tra chi non mi ha toccato. Vai, vai, vai.